Ritrovarsi faccia a faccia con un cinghiale con il passare del tempo sta diventando anche per chi vive in città una cosa non improbabile. Il cinghiale è un animale selvatico con un altissimo tasso di riproduzione. Basti pensare che ogni femmina può partorire fino a 6 cuccioli alla volta per 2 volte l'anno e non ha più un vero predatore in natura se non il lupo ed è praticamente onnivoro. Può cibarsi di ghiande e castagne così come di carcasse di animali e scarti dei nostri rifiuti. Insomma incontrare un cinghiale sulla propria strada è un'ipotesi da tenere in considerazione. Dunque bisogna anche sapere come comportarsi. Abbiamo anche nel parco cittadino qui a Teramo delle presenze di mamme con cinghialetti che possono sembrare belle e c'è però possono, qualora non si hanno le giuste attenzioni, essere pericolosi. Non vogliamo fare dell'allarmismo ma dobbiamo assolutamente dare delle indicazioni, delle istruzioni per l'uso ai cittadini per evitare che un incontro che può essere anche piacere poi diventi qualcosa di pericoloso. I cinghiali per loro natura non sono aggressivi, bisogna assolutamente lasciarli una via di fuga per cui quando si sentono magari minacciati possono aggredire. La nostra preoccupazione è soprattutto per i ragazzini piccoli perché magari attratti dai cinghialetti piccoli che si avvicinano danno questo tipo di sensazione e anche i nostri animali domestici. Tenete assolutamente i cagnolini al guinzaglio perché il cagnolino non comprende il pericolo ma andare vicino ad un animale di questo tipo si può rischiare allo sventramento. Una serie di cauteli che sono queste qui, non considerarli come un bambi ma considerarli come animali che essendo la percezione di essere in pericolo possono aggredire non per la propria natura ma per la propria difesa.